Per un futuro migliore. Vota. Fanculo il PIL dal 21 febbraio. Vi spiego il vero significato dell'economia. Tra frizzi e lazzi, stavolta... So che azzi! A capo ciò, fammi finire lo spot. Sandro Torella. E chi è? So io. In Fanculo il PIL. Ar teatro Duse. E di che ne va me la... Info duseteatro.it